A livello di scelte tecniche, ti rimproveri qualcosa? Antinelli, ma cosa mi devo rimproverare? Ma io ho fatto 30 di rimporta oggi, ma che domande mi fai pure te? Cosa mi devo rimproverare? Se c'è qualcosa... Ma cosa mi devo rimproverare? Ma cosa mi devo rimproverare? Che puoi cambiare... Dimmi te cosa... No, non lo so, ma pensavo, potevi sostituire Maximovic ad esempio. E perché dovevo sostituire Maximovic? E dopo lo perdevo, per due o tre settimane mi andavo in down. Che capisci? Questa valutazione che fai te... No, che chiedo a te... Ma è una domanda, quando... Se oggi vogliamo parlare di calcio, sta partita... Non si può parlare di calcio, di che vogliamo parlare? Delle scelte? Di Lozano attaccante, di Maximovic? Si deve andare a cercare il pelo nell'uovo, di che stiamo parlando? Ma te l'ho detto all'inizio che è difficile... E mi fai la domanda... Che dovevo cambiare? Chi dovevo cambiare? C'è un Petagna che ha fatto tre partite, giocavo ogni tre giorni, non c'ho due attaccanti che mi mancano, se rischio che si fa male non c'ho più l'attaccante. Lozano oggi ha creato la messa in difficoltà e dopo mi dice di Maximovic. Dai, facciamo i bravi, parliamo di calcio e non parliamo di altre cose. Dai. Dai.